di Zoff si è visto precluso il successo. Uno o due punte è sempre un errore come ha dimostrato l'incontro di Perugia dove erano in campo squadra proprio con due uomini gol per ciascuna. Rossi e Calloni da una parte e Chimenti e Palanca dell'altra. In pratica tutta la partita è vissuta soltanto in due spunti creati ambedue da Rossi. Qui si vede Casarsa lanciare Rossi il quale si aggiusta la palla di petto ma Mattolini riesce a respingere. Con Vanini e Speggiorini il Perugia giocava sempre con palloni alti. Con Rossi significa un uomo in meno a centrocampo dove in tre adesso devono correre per quattro. La soluzione più vicina appare soltanto l'utilizzazione di Rossi al posto di Speggiorini ed il recupero di Vanini. Appaiono comunque molto lontani. Ecco un ultimo cross di Rossi in favore di Bagni che però arriva in ritardo. Il Catanzaro potrebbe addirittura vincere sul finale con un'ottima azione impostata a centrocampo e risolteci attraverso un doppio rimpallo in favore del Catanzaro. L'azione è impostata addirittura da un perucino. La palla arriva sulla destra e sul cross conseguente Palanca arriva in ritardo scontrando.